Ciao a tutti, questo è un breve video per introdurre su alcune caratteristiche introdotte in Windows con gli ultimi aggiornamenti. Ne voglio proporre due, una è legata ad una combinazione di tasti che vede interessato il tasto Alt-Grow che è quello che si trova almeno sul mio computer a destra della barra spaziatrice premuto insieme alle freccette destra, sinistra, alto e basso. Questa combinazione permette di ruotare il desktop come se fosse un tablet o comunque un dispositivo mobile. Quindi premendo ad esempio Alt-Grow con la freccetta verso sinistra, ecco che il desktop si ruota in questa direzione premendo la freccia verso destra si ruota in una direzione apposta, premendo la freccia verso l'alto ho la visualizzazione predefinita, verso il basso ho la rotazione a 180 gradi del desktop. Quindi ritorno, è questo perché Windows 10 comunque è un sistema operativo che si installa anche appunto su dispositivi mobili, infatti andando qui sulla voce delle notifiche alcuni computer hanno il display anche touchscreen e qui è possibile attivare la modalità tablet per utilizzare appunto il touch anziché il mouse. Allora, e questa sarebbe la prima caratteristica. La seconda invece è di utilizzo un po' più comune in ambiente desktop sia per computer fissi sia portatili ma comunque anche per dispositivi mobili e consiste nella possibilità di ridisporre in maniera automatica le finestre aperte e magari sovrapposte sul desktop per semplice trascinamento sui bordi e gli angoli che sono bordi e angoli attivi con questo aggiornamento di Windows 10. Quindi in pratica a voler affiancare le due finestre basta trascinare la finestra sul bordo ad esempio sinistro rilasciarla e qui appunto mi si propone la scelta delle finestre attive, in questo caso rimane soltanto questa da selezionare per vederle in modalità affiancata. Se avessi invece più finestre, quindi ad esempio un browser o comunque ad esempio premendo il tasto Windows con S apro la barra di ricerca, quindi ad esempio scrivo pannello di controllo, ok e poi ne apro anche in altro, quindi Windows S Paint ad esempio quindi a volerle, ok quindi la trascino verso l'angolo superiore destro ad esempio, rilascio e... no, questo lo devo staccare allora, un attimo angolo superiore destro ok e in questa maniera si possono orientare oppure ancora la posso ridisporre sull'angolo toccando il bordo destro in questo caso quindi in pratica il semplice trascinamento sui bordi attivi e angoli attivi permette di ridisporre in maniera automatica le finestre questa è una caratteristica utile ok poi volevo dedicare un altro video per il risparmio energetico e correggere alcuni consigli che ho sentito dare per quanto riguarda invece il togliere il redirezionamento verso la schermata di login che in alcuni video si proponeva di correggere con l'aggiunta di alcune voci nel registro di sistema oppure andando a rimuovere completamente la password di login ma non credo che sia questa la modalità più corretta e quindi però rilascio, riservo l'altro video per la descrizione ok, ciao a tutti